Buonasera a tutti quanti, sono in un parcheggio, sono tra l'altro in un parcheggio di un ospedale che sto attendendo una persona e volevo fare comunque, volevo condividere con voi alcuni pensieri sul Venerdì Santo. Vi volevo dire qualcosa per quanto riguarda questo Venerdì Santo. Il Venerdì Santo è una, come sempre noi abbiamo fatto una riunione durante il tempo in cui potevamo incontrarci attualmente con il problema del coronavirus, anche questa nostra tradizione come quella di tutte quante le altre chiese è venuta meno. Ma volevo comunque farvi riflettere assieme a voi sul motivo del Venerdì Santo e soprattutto volevo farvi riflettere su una cosa. E se non ci fosse stato venerdì? E se quel venerdì non fosse mai arrivato? E se quel venerdì in qualche maniera miracolosa Gesù avesse scampato la morte e avesse attraversato indenne dalla croce. Cosa sarebbe successo? Voglio leggere un attimo insieme a voi il dal Vangelo di Marco, il capitolo 27, i versetti che vanno da 51 fino a 56, fino a 54, che dice così. E parla proprio della morte di Gesù. Dal versetto 50 leggiamo, Matteo 27. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano e li suscitarono. E usciti dai sopolchi, dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grandi more e spavento. E dissero, veramente costui era il figlio di Dio. Se non ci fosse stato quel venerdì, cosa sarebbe successo? Se non ci fosse stato quel venerdì, al versetto 51, la cortina del tempio sarebbe rimasta sana. Noi saremmo rimasti separati da Dio. Vi ricordate che la cortina del tempio era la tenda spessissima che separava il luogo santissimo, il posto dove soltanto una volta all'anno entrava il sacerdote e dove Dio si manifestava nella sua presenza alle persone credenti, a un solo credente che era il suo sacerdote. E era il posto che veniva riempito dalla presenza di Dio. Se non ci fosse stato quel venerdì, quel patto sarebbe rimasto sempre nelle mani di un sacerdote che doveva fare sacrifici, che doveva operare in nostra vece. E invece no. Quel venerdì, ringraziando Dio, è venuto. La cortina del tempio è stata spazzata via, è stata lacerata in due. Il tempio non ha più una porta d'ingresso, perché l'unica porta d'ingresso è Gesù e il suo sangue è quella croce. Se non ci fosse stato quel venerdì, per sempre saremmo stati separati dalla presenza di Dio. E invece Dio aveva proprio strutturato perché ci fosse quel venerdì, perché quella morte violenta del suo figlio in croce potesse far separare, far sparire la separazione che c'era tra lui e noi. Se non ci fosse stato quel venerdì, che cosa sarebbe successo? Seggiamo il versetto 55, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Se non ci fosse stato quel venerdì non ci sarebbe stata la resurrezione. Se non ci fosse stato quel venerdì, una volta morti, basta, sarebbe finito tutto. E invece no. Proprio quando è morto Gesù, come dimostrazione della potenza che stava per sprigionare quella croce, quel sacrificio estremo, addirittura antecipando i tempi, alcune persone, non tanti, non dice qui molti corpi dei santi, chiaramente non erano i santi quelli che noi immaginiamo con l'aureola, erano semplicemente credenti che avevano seguito Gesù come me e te. E la potenza, per dimostrare che c'era quella potenza in quella croce, alcuni, anzi molti morti dei santi, entrarono in Gerusalemme, nella città santa, ed apparvero a molti. Se non ci fosse stato quel venerdì santo non avremmo la resurrezione e non avremmo la certezza di vivere in eterno assieme con Gesù. Se non ci fosse stato quel venerdì, che cosa sarebbe successo? Versetto 54. I centurioni e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero veramente costui è il figlio di Dio. Se non ci fosse stato quel venerdì, le persone non avrebbero capito che quello realmente era il figlio di Dio, che la potenza del prodigio in quella croce era dovuta alla potenza che Dio aveva messo in Gesù. Volevo leggere con voi anche un altro passo che si trova in Atti. Aspettate che lo cerco sul mio telefono. Si trova in Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 14. Qui è Pietro che parla. È Pietro che parla quando lo Spirito Santo è arrivato nei discepoli e li ha riempiti e le persone cominciano a parlare in tutte quante le lingue, tutti quanti capiscono le persone. Pietro dice così, Atti degli Apostoli 2, versetto 14. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò a loro così. Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni che Dio, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù nella terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se non ci fosse stato quel venerdì. Se non ci fosse stato quel venerdì non sarebbe arrivato lo spirito santo. Lo spirito che aveva riempito Pietro e gli apostoli, mandandoli ad evangelizzare tutte le persone in quella città e in quella stessa giornata più di 3.000 persone credettero al Vangelo. Non sarebbe arrivato. Gesù l'ha detto più di una volta. Se non vado via io, se non vado via io, se non vado via questo venerdì non potrò mandarvi chi mi sostituisce e chi vi riempie. Perché fisicamente io non posso riempirvi come uomo, ma posso riempirvi quando tornerò sotto forma di Spirito Santo e sarò disponibile a tutti quelli che credono in me. Se non ci fosse stato quel venerdì non avremmo lo Spirito Santo. E se non avessimo lo Spirito Santo non potremmo proclamare il Vangelo del Signore. Non so se avete fatto caso alla similitudine della situazione che c'è stata con la morte di Gesù e con gli ultimi tempi. Alla morte di Gesù il cielo si è oscurato, la cortina del Tempio si è spaccata, ci sono stati terremoti e la terra è scesa nell'oscurità. E al versetto 20 di Atti 2 Pietro dice il sole sarà mutato in tenebre e la luna di sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Non aspettiamoci che le cose vadano meglio. Non aspettiamoci che improvvisamente tutto quanto diventerà facile a un certo punto. No! Quello che dice Pietro qui, ispirato dallo Spirito Santo, è che le cose andranno di male in peggio e che noi sperimenteremo la stessa paura che avranno sperimentato le persone alla morte di Gesù. Perché? Perché c'è in arrivo un qualche cosa di più grande. Perché prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Pietro dice che c'è un giorno che sarà grande e sarà glorioso. E che cosa avverrà? In quel giorno glorioso avverrà, versetto 21, che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se non ci fosse stato quel venerdì noi non avremmo potuto invocare il nome del Signore. Se non ci fosse stato quel venerdì noi non avremmo potuto essere salvati tramite la croce. Ma venerdì c'è stato. Quel venerdì c'è stato. Gesù è realmente morto, è stato crocifisso e è morto per noi. Ma il terzo giorno è resuscitato per darci la potenza e per poter tornare sotto forma di Spirito Santo e riempirci. Che Dio benedica il venerdì che ha mandato a noi per poter essere liberi, per poter essere risolti dal peccato, per poter entrare nel Tempio senza avere più una cortina che ci separa dal Padre, per poter accedere direttamente al Padre attraverso il Figlio. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Che Dio benedica il venerdì santo. Grazie a tutti.